Oilun da sto punto se lo tenemo che tanto sta a giocare bene Il problema è l'attaccante di riserva Fammi vedere quanto vanno Cristiano Ronaldo Tu la spalmas Here we go Il tocco saluta il zoom Eccolo Ho pure un bel tapin Un tapinaldo Un tapinaldo Eccolo Cristiano Ronaldo Suuu E' arrivato La seconda giovinezza nella spalmas Cristiano Che palletta di Xavi Simons Simeone prendi il cazzo da Cristiano Prendi il cazzo Nonostante la sconfitta contro il Barcellona brutale Siamo primi Quindi c'è possibilità di imbastire subito una vittoria del campionato bro Sarebbe follia Chi non ha visto l'ultima parte della carriera fatta in stream Non sa di Cristiano Ronaldo Non lo sa del zoom Di mister tocco E il zoom ci ha Ci ha già carriato un paio di partitelle Nonostante l'età Nonostante sia lento Perché è lentissimo Però si è Veramente pulito Vabbè La squadra in realtà Sai è una di quelle squadre Cioè Stiamo viaggiando bro Cioè Tutti sull'80 70 E poi boom Moleiro 87 Parisi 85 Però Moleiro è forte eh regà Moleiro è molto molto forte È uno dei più puliti eh Vabbè ma adesso Cioè Appena arriviamo a luglio Mamma mia Perrone Speriamo che Perrone e Irla Non faccia la fine che ha fatto Nella carriera mia bro Il prossimo calciomercato sarà fondamentale Io non so se riusciremo noi a vincere la Champions League al terzo anno Però noi tre anni abbiamo eh Faccio tre anni secchi E come va va Espanol Las Palmas Cazzo gli racconto io qua Secondo me Bro Sti momenti Sta buono Guarda il zoom come si fa a vedere bene Potete fare lo scatto giusto il zoom Madonna quanto è lento È un po' lento Cristiano ragazzi Purtroppo Cristiano c'ha una certa età Eh beh con calma dai con calma Fai Musa Porco No come spagnolo in solitaria Vabbè ma non è in solidaria Via Perfetto Ecco Questa è in solidaria Questa è un po' Questa è in solidaria Ok Cristiano in solidaria Aspetta Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ha salvato il risultato evitando il gol Grande carnetta di Fernando Paceco E ce l'avete Ha tirato senza evitare Rigore perfetto Dai regga Buono 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 Ma sono un fenomeno Agumena stecca sotto al set Quanto è veloce Regga Zoppì Godo Stiamo impazziti porco Giuda Ma che so sti rigori per ricominciare subito al meglio la carriera Ho fatto il cucchiaio io ho fatto Cazzo ce ne frega a noi Gli abbiamo fatto il cucchiaio a sti coglioni Allora noi in classifica siamo primi Tre punti sopra il Barcellona Quattro punti sopra il Real Madrid La prima stagione da neopromossi stiamo primi Ah Regga ma abbiamo Barcellona e Real Madrid back to back Regga ma che calendario è Barcellona, Atletico, Madrid in Coppa, Real Madrid Eh Ronaldo è stanco regga Ronaldo un po' gioca Deve gioca Oilund Deve gioca Oilund Io mi sa che faccio gioca pure Duanzebè Al posto degli oro Mi sa che a sto punto fare gioca pure Agumena Fiamo riprendere un po' De forma a sti giocatori È rischioso eh Però se può fa Vai Con casa del Barça Io non mi ricordo com'è finita l'andata Ma mi sa che l'abbiamo vinto tutti i scontri diretti Con Real sicuro abbiamo vinto Me lo ricordo Ho perso con la tripletta d'Immobile Sì ma regga ma come gioca? No Il Barcellona Pare il Barcellona Regga Grazie Bello Regga devo riprendere un attimo la mano al gioco Fidate è per quello No no non ci arriva Ammazzamo prima È dreppere regga Mi sa che vado next Ma regga se più la manita porco due faccio Uno zano next incredibile Appena vedo la manita me ne vado In un secondo me ne vado Regga è Cioè io vi giuro Ingiocabile Ingiocabile regga Ma ci abbiamo pure la squadra stanca Ci abbiamo Vabbè Manco troppo Cioè dobbiamo mettere If I go B9 Leviamo Guler Mettiamo Simons trequartista B9 lo mettiamo Ala Mettiamo l'Oio Facciamo così Oh guardate se l'Atletico Madrid è uguale al Barça Beh questo ci abbiamo andato e ritorno regga Ci abbiamo più Ci abbiamo un'occasione in più Stiamo con la difesa titolare Fidate è un altro game Ci abbiamo Cristiano Ronaldo Che contro l'Atletico Madrid è formidabile Vabbè regga non parlo più Porco Dio regga Cioè veramente non parlo più Allora A difesa 5 dell'Atletico Madrid A difesa 9 Quanti sono in linea Guarda che ha preso Oblak Cazzo di Simeone Porco pure in game lo odio Bello Va bene va bene va bene Bravo Parisi Ecco qua Difesa 8 Lo vedi lo vedi Bello Musa Ma lo schema Io ho fatto lo schema Porco Giuda regga Me ne frega un cazzo Che è il bug Sio cane Godo come un riccio Difesa 8 dell'Atletico Se meritano il kick off E poi tra l'altro Ma perché non me l'ha difeso Oh all'oglio dice Mannaggia la madosca Mannaggia Bravo Ioro Cristiano Al volo Girato di spalle All'angoletto Next A dormire L'Atletico di Madrid Godo Molto bene Real Madrid Per Barca ha vinto regga Perché siamo secondi 88 Mo Leiro Allora tocca le va Xavi Simons Regga Rifai giocare Binoe E abbro ma ci devi Andare per forza così Cioè non posso Non giocare con Cristiano Ronaldo Devo andare con Cristiano Ragazzi Devo andare per forza così Ragazzi Vai Regga però Real Madrid Devo dire Non è stato tosto Quanto il Barcellona Quando ci abbiamo giocato Cioè io col Barcellona Ho perso entrambi i scontri diretti Ma proprio un cazzo grosso Eh Il Real Gli abbiamo rotto bello il culo Mi ricordo Ma magari è migliorato Bello Però no Che fai? E ole Guarda che cazzo ha piato Courtois E no niente Infattibile Il problema è sempre Courtois Che è un fenomeno Perché poi Stiamo a giocare pure meglio Stiamo a giocare Almeno giochi Non è come il Barcellona Che non giochi Bello Binoe Cosa? Cosa? Ma come faccio io a difendere Sta roba ragazzi È indifendibile Cioè Parisi però Devi leggerli Porco Dio Porco Dio ragazzi Che culo però Che culo incredibile Regà Cioè manca a vive così Se vedo Porco Dio Ma vuole Trattene una Niente Portacci quanto è lento Ma che succede? Parisi Porco Dio La difesa è forte Real To cazzo De Rudi Che è un fenomeno Mo lo faccio di Dattrix Che avete già avvento Lo scudetto Regà Quella è la macumba Della madre De Lukaku Se Atrix dice Che l'Inter Vince lo scudo Regà È la macumba De la mamma De Luca Vabbè Che culo Porco Dio Niente Abbiamo perso Tutte e due Scontri diretti Regà Sia Barcellona Che Real Madrid A meno che No Non è impossibile Allora regà Super a Kurt È impossibile Porco Dio Cioè È un fenomeno Mi sa che il campionato L'abbiamo bello Che mandato a Troie Vabbè Ci abbiamo la terza stagione Ragazzi Dove avremo un'occasione Sola secca Per fare il triplete Vabbè No No regà Però ci serve Un attaccante Bro Cioè ci serve Un attaccante Cristiano Ronaldo Bello il meme Oilund Porco due È un trimone Do cazzo vai Due Scontri diretti Persi E noi abbiamo pure La Real Sociedad Tra l'altro Che è settima Cioè Non è che fa schifo Noi siamo rimasti A 51 Loro 52 Il Barcellona 54 Real Madrid In teoria Se vinciamo Andiamo a pari punti Però perché Real ha una partita in più Barcellona Vabbè In realtà è ancora tutto vivo Però tocca sculà Soprattutto tocca vince Che a quanto pare Mi sono scordato Come se vince Su sto gioco Ci stiamo È pazzo È pazzo È ringiovanito La vara Remiro La vara Goto Sììììììì Bravo Musa Ficula Non la viano più di mano Bello Vai Scegli Simons Vai moleiro Vola Moleiro Vi fidate Next Buono Doppietta del Sium 4-1 Tripletta in totale del Sium Il Barcellona ha vinto Getafe Ottavo Secondi Ah sì Regà il Real ha perso punti Fai momenti clou fidate Momenti clou secondo me sono puliti Ah fai qua vinci facile Vinci 2-0 Guarda che corpo di testa di Cristiano La Spalmas si invola in solitaria Ma non sto da solo Non sto in solitaria Come 67esimo No Regà tocca segna qui Regà tocca segna qua per forza Ah Un ottimo 0-0 Abbiamo il ritorno di Coppa Contro l'Atletico Madrid Ma io ti dirò Tanto abbiamo vinto 5-1 No Quanto è finita Quanto è finita Regà la partita contro L'Atletico Madrid Prima 4-0 E E allora andiamo tranquilli Sì Andiamo molto tranquilli Con la seconda squadra 4-0 E allora vai Simula veloce Va bene Va bene La finale Corsi figlia Senza Sarbitra Taylor Allora bro Ercatici a 17esimo Possiamo vedere una simulazione veloce? Porco dio Betis 13esimo Bene Bene Spagnol Undicesimo Come stiamo in classifica? Bro contro le Spagnole Fillo un momento clou No bro C'ha uno script Le ultime partite Cioè le partite fuori casa Contro le pippe C'hanno uno script Incredibile Uh Rigorino Niente Non posso più segnare i rigori Bravo se vedo Spagnoli in attacco Sta da solo Ok Aspetta il contropiede del Zium Corri Corri Cosa? Un altro rigore Ma poi si stava buttato All'altro lato Ha cambiato Cioè si stava buttato All'altro lato Poi non si è buttato Ma che vuol dire Passala Ma come Come si fa Come si fa A mangiare quel gol Due rigori Se siamo magnati Due Allora come stavo messi Terzi Erziviglia E quarto Tocca giocare Tocca giocarla sempre Contro Erziviglia Bro Comunque assurdo Quanti gol Se mangiamo Vai Moleiro Porco Dio Sfondalo Bravo Guarda Pulito L'azione è Oh Eole Bono Che paradiso Porco Dio Basta Sfondalo Ma se è il cambio Al trentanovesimo Bella Mamma mia Xavi Simons Ragazzi C'ha un piedino Per questi assist Incredibile 5 a 0 Godo Fanculo Arziviglia Porco Dio Ok Come stiamo messi Aprile 2024 Allora Real Emoce sta sopra Però stiamo 8 punti Sopra Erziviglia Mallorca Moleiro 89 Gioca sti momenti Clou Ma rega Questo è 3 a 0 Facile Vi fidate Stiamo di vigore Vai Grì Bravo Arda Ronaldo in solitaria Bro Cristiano Contropiede Mi serve tipo Molero Che comincia Contropiede State tutti fermi Corri Qualcuno Che si Non fanno un movimento Non c'è una La movenza 18 in difesa Guarda In solitaria Ancora Cristiano Regà Però Cioè Si è rallentato Ronaldo Cioè In 3 mesi Si è rallentato Tantissimo Regà Prima Non era così lento Quando avevamo preso Non c'è posso credere Non c'è posso credere Porco Ma che poi lì basta che gli entro in scivolata Che cazzo me frega Ma lì devo entrare in scivolata Niente regà Oggi Sti cazzo De Momenti clou Male eh 3 a 0 Cristiano si è mangiato 8 gol Regà Porco Dio Ma ne è che non arrivo manco in Champions Così 9 punti Sopra il Siviglia Gli ha dovremmo fa Una simulazioncina lenta Dai regà Cristiano Cristiano Sta a fare botte Te vedo Bravo se vedo Porco Dio Fuck the club Ah Bravo Moleiro Sai che non sa che faccio due cambi? Lo sa mai? Fiamo due cambi Fiamo giocare un po' a B9 Invertimo così Pulito Moleiro pure lo levamo Mettiamo Pellistri Invertimo pure loro due Fiamo giocare pure un po' a Oilund Puttana Eva Che Cristiano Sta sotto un treno Zio cane E fa un trappure Agume Vai Agume Vai Bravo Mamma mia Se vedo Ma se vedo Sta parattuto Come infortunio leggero E switcha Niente Tocca per fo Niente Oggi è difficilissimo Sto finale di stagione Sto a Mottia un cazzo Da chiunque Pulito Goto Goto Mamma mia No ragazzi No ragazzi Due attaccanti nuovi Il prossimo anno Nella Champions Se devono cambiare Tutte e due Gli attaccanti Orendi Goto No bro Oilund pure De Pier Volo Sì Eh ma Darwin Un altro G Bello però Col Game Face Cazzo Perché c'è il Game Face Ma Darwin Quando lo giocavamo noi Ti ricordi C'era un cazzo Brutto Frasile Player Fischio Bravo Bene Niente Franks allora va un attimo Levato e tocca giocare Con l'Oio Dice Allora Che ci abbiamo Vai a do lead Eh raga Porco Dio Porco E simulazione veloce Dai rompiamo via il culo A sto cazzo De Siviglia Forza Lo sai che c'ho pure Da rinnovamparo Dei contratti Dei miei Eh A bro Senza le simulate Lo sai che Palle Veloce Dai ma a parti scherzi A giocasse tutte le partite Ti dai una martellata Sul cazzo Calcio Perché lo amiamio Allora